Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida che vi richiede di distruggere 7 barche a scogliere scoscese, quindi qui praticamente. Sulla spiaggia di scogliere scoscese troverete delle imbarcazioni, quindi dovete distruggerle. Potete farlo in qualsiasi modalità di gioco, quindi ristasquadre, singolo, coppia o a squadra indifferente e naturalmente potete farlo in partite diverse, anche perché non troverete 7 imbarcazioni pronte per essere distrutte. Le barche sono queste, sia quella che trovate lì in fondo, vedete, questa qui, che quella che trovate qua, questa barca arenata praticamente. Non so se vale anche la canoa, però le barche sono queste, quindi dovete scendere qua e distruggere queste barche con delle picconate. Potete provare a distruggere anche, diciamo, le canoe per vedere se vi vengono conteggiate, ma le imbarcazioni sono queste. Un'altra è laggiù, quindi ne distruggete 7 e la sfida è completata.